Ciao a tutti ragazzi, siamo Rappi e Bolli e benvenuti su Roblox E oggi siamo in pericolo No, non è che siamo in pericolo, saremo in pericolo perché dobbiamo fare delle cose molto pericolose Ok, ma noi siamo già in pericolo perché guarda un po' la va a fuoco, sta a fuoco la nostra barca Ma non è una barca, è un cartello, sta andando a fuoco, spegnilo, questo qui sta ridendo, cosa ridi? Cioè sta andando a fuoco il cartello e ride quello lì? Eh, ho capito, ma è un succo di lancio della barca, cosa vuol dire? È perché Roblox non sa ancora parlare bene l'italiano purtroppo Ok, e quindi ha preso un succo di frutti e ha mandato a fuoco la barca e noi siamo in pericolo Allora, oggi ragazzi cosa dobbiamo fare? Rebbe e moglie andranno in giro con la loro canoa, ecco vedi? Ma quello non è una canoa, quello è un soup È un kayak, vedi? Ah, un kayak È una espressione di kayak, se ne sono di vari tipi, vedi? C'è uno lì, uno là, uno di qua, uno su, uno giù, uno a destra, uno a sinistra Loro però devono fare solo una cosa, cosa devono fare i nostri fan? Voi ragazzi dovete subito lasciare un bel like a questo video e soprattutto iscrivetevi! Ok, allora quindi cominciamo, mi raccomando, fateci sapere se volete anche altri video di Roblox, eh? Guarda, c'è un cantino sul soup! Guarda, ma non riesce nemmeno Non riesce a scendere dal kayak Ehi gattino, tutto bene? Gattino, tutto ok? Noi ridiamo, ma faremo la stessa fine E pagare all'amico di Max E l'amico di Max è uscito È uscito, ci ha rinunzato, ha cambiato zoco Oh oh, adesso Ok, ci sei Rebbe? Sì, ci sono 3, 2, 1, vai, eccolo! Uh Il nostro kayak! Ah, è per uno, vedi? Il gattino l'aveva per due Ce l'aveva per due, ok Quindi il remo lo prendiamo così Ok Sei pronta? Oh mamma no, non sono pronta! Allora, non è facile per niente, eh? Ma scusa, stiamo andando in canoa Dentro una piscina? Guarda, guarda, guarda Ma stiamo andando in canoa dentro una piscina? Ma non è una piscina È un mondo gigante Pazzo! Oh mamma Non è una piscina di farci spendere i soldi Perché devi capire che Roblox cerca sempre di farsi sciopare, di prendere i nostri soldi Vai! Andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Comunque noi siamo sempre in pericolo Perché guarda dove siamo! In mezzo al nulla! Cioè se caschiamo... Se caschiamo siamo... No, 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 non cadere! Non cadere! Non cadere! Non è la sua parte! Ok Oh, me la sto cavando bene per ora, eh? Sì, però devi remare più dritto Cioè stai remando tutto storto Stiamo andando tutti storti Ok, dopo ti farei provare Ok, secondo me io riesco a remare bene Ok, checkpoint Quindi dopo il checkpoint ti faccio provare Vai, non vedo l'ora Allora, no, non è facile Ma quella è uno scoglio È uno scoglio, no Però si poteva saltare di lì Vai, allora Voglio vedere cosa combini Aspetta, innanzitutto mi devi dire come si va avanti Devi premere No, no, qui come si va No, 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 solo il mouse devi usare Ok, così E per la visuale come faccio? E sinistra, così, guarda Ah, beh, ok, allora è facile Sì, è facile, guarda Lassù c'è una rampa incredibile E sinistra, sinistra, destra Guarda com'è stato Dove lo c'è? Ok, finiremo di sotto Finiremo di sotto Per fortuna c'era la barriera Attenzione, guarda, guarda Come a bowling Ti servono le barriere Eh, vabbè, la sponda serve sempre Comunque, volevo fare notare questa cosa Destra, destra, destra Un attimo Un attimo Comunque, eh, mi sono bloccata Devi andare indietro Adesso indietro Sei mai andato in canoa? Non proprio Cioè, sì, ma è andato in canoia Devi andare indietro Ok, quindi così Il video dove siamo Ti ricordi quel video Dove ti ho fatto lo scherzo in canoa Dove c'era un coccodrillo? C'era un coccodrillo È vero Eravamo andati su uno di sti cosi Senti, guarda Non posso vedere queste cose Guarda che ce la stavo facendo Guarda, indietro così Vedi? Eh, ma vedi Dopo ti giri No, la faccio io Oh, stai per finire di sotto No, stai tranquilla Perché comunque Io ti voglio dire una cosa Stai andando indietro così comunque No, sto andando indietro Sì, l'abbiamo già fatta questa parte No, siamo venuti da là Ah, ok Mamma mia Non la sopporto ragazzi Comunque Questo è una specie di tutorial Ancora secondo me È difficile Non è arrivato E comunque come faremo Andare lassù in alto Allora, cosa c'è scritto? Allora, swipe o crop o crop o crop Allora, c'è scritto che Dobbiamo fare swipe Di fronte E poi attraversare Eh, ma non si capisce C'è scritto attraversare Non ci sono più le sponte Fra poco Oh mamma ragazzi Oh mamma Ma come faccio ad andare lassù? Ah, per curvare Bisogna fare così Oh, oh Guarda di andare Sì, bravo Vai Attenzione Mamma mia Che pilota Di barche Comunque vorrei dirti una cosa Che cosa? Se cadiamo da qui Eh Siamo finiti Eh, lo so eh Perché ancora non c'è il check point poi Ma siamo in alto adesso Ma va, segno Quindi io direi che potresti provare A farmi guidare Adesso guarda Arrivo in quel check point Eh, no Secondo me sì È più divertente prima del check point Perché potrebbe succedere di tutto No, adesso Ci sono le cascate secondo me A breve Adesso si può andare da standard parte? Guarda ci sono dei pesci lì Sono dei pesci, sì Ok, vediamo, vai Allora, sto andando avanti fortissimo ragazzi Guardate A sinistra Eh, ci sto andando Un attimo Sei una mini cascata Hai ansia Hai fretta So ansio Guarda Vai Ok, ok Direi che mi sono girata No, ti stai girando Ok, veloce Non ci sono più le spande lì Non cadere C'è scritto No, 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 no Ok, qui si mette male ragazzi Guarda quel tubo Voglio andare là dopo Perché si sta mettendo malissimo Non ci sto capendo un tubo Cosa stai dicendo? Non ci sta mettendo male qua Perché non ci sono più le spande No, vabbè Vai dentro il tubo Non ci posso credere Attenzione Sembra andare in un parco giochi acquatico No, no, no Vai, vai, vai Calma, calma No, vabbè No, vabbè dentro il tubo è bellissimo Ok, ci siamo Forza Rebby ce la puoi fare Dai, dai Dai, dai Non mi mettere ansia Vai dentro il tubo Ci siamo No Dall'altra parte Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Bellissimo E adesso No, ma non sto facendo niente Ho raggiunto un checkpoint ragazzi C'è un applauso Per la Rebby Brava Rebby Ok, è il mio turno E comunque puoi salire lì sopra Guarda C'erano delle frecce Vediamo No, 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 no No, no, no cosa? No, non si poteva Bisogna andare di qua Fidati Attenzione Ti fidi di me? No Ottimo lavoro Cos'è? Eh, ti rarrivo Ti rarrivo L'acqua a ralentare Gira la tua barca Allentami Noi non vogliamo rallentare Vogliamo andare veloce Colpi più lunghi Ti muovono più velocemente Colpi più lunghi Ti muovono più velocemente Quindi vai Vai, vai, vai È anche difficile Perché bisogna saper pilotare Questa barcetta Attenzione perché Non ci sono le sponde Rebby Una cascata Oh mamma Lento Lento No, vado bene Vado bene Vado bene Vado bene Ok 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 Per un pello Non siamo finiti di sotto Quello si vuole vendere delle bibite Davvero Una papera gigante No, non possiamo saltare sulla papera Eh, mi sa di no Sarebbe divertente O comunque per ora Ce la stiamo cavando No, non dirla troppo in fretta Quando ci sarò più in fretta Stai tranquilla Sono un marinaio d'acqua dolce Sì, dicono tutti così Oh mamma Oh mamma Oh mamma Vai, vai, vai Vali Check point Check point Non posso giocare ancora Tocca alla Rebby Dai, tocca alla Rebby Sì Ok Pagaia sul davanti O sul retro Per girare Leggi cartelli per le mangi Ok Non sappiamo Né leggere Né roblox A scrivere Comunque Non si so Non mi mettere ansia Non mi mettere ansia Ce la farò benissimo Guarda Uno, due Ok, devi fare No Brava eh Vabbè Ero arrivata al check point Però Facca a me Guarda dove ci hai fatto ricominciare E adesso No vabbè Che siamo attaccati Oh da due Vai da due Voglio vogliere qualcuno Magari qualcuno vuole entrare qua dentro Secondo me è più difficile con quello da due Perché è più larga la barca Oh no 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 Oh no 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 Ci sono le teste Bravo Come hai fatto Sono un genio Salvataggio in corner Mamma mia ragazzi Ma di cosa stiamo parlando Molly è il numero uno Aiuto Aiuto Qua finisce malissimo No stai tranquilla Leggi i cartelli Guarda Non leggiamo Non girare bruscamente Invece giriamo bruscamente Gira gira Comunque sembra facile ragazzi Ma farlo è difficile È difficilissimo ragazzi È difficile perché va dal lato opposto Cioè il kayaki si gira Dal lato opposto in cui noi remiamo Vai 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 Sì in effetti Pagaia Mi è venuta voglia di andare anche a me in canoa ragazzi Esatto Magari con due remi Sì magari non rischiando la vita eh Ok allora Là ho visto qualcosa di brutto Andiamo Mi sa che c'è uno squalo Molly Dove è uno squalo Uno squalo Te l'ho detto che c'era uno squalo È uno squalo mortadello Mamma No è uno squalo martello secondo me Piano Cos'è divano c'è scritto Cos'è Divario Divario Oh Ok Ok Divano 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 Guarda quello Ha una barca Ma quello ha una barca personalizzata No ma ha un super materassi È un pochino lui Chissà se possiamo entrare con lui Eh magari possiamo Oh Ok Finish Vuoi fare te? Sì Posso fare questo? Ok vai 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 Veloce Le cascate Togliti No 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 L'ha scioppato sicuramente Sto andando all'indietro Salve amici Mi potete dare una spinta E invece no Ok leggi i cartelli Basta non vogliamo più leggere sti cartelli Ok attenzione No Che sta succedendo? Ti stai girando Ok perfetto Perché mi sto girando? Sei di nuovo dritto Sono di nuovo dritto Vai vai Forza prendi quello che è Vado vado Andiamo 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 signori qualcuno vuole entrare qua dentro? ma quello sembrava un cuoco sembrava un berrettino da cuoco attenzione ragazzi qua si fa dura ok bravo molly no ah ho salvato una persona becon grande è salito con noi eh si però adesso basta che non ci fa andare a fondo amico non così forte non così forte si vuole far cascare? no FBI becon becon si vuole far cascare eh ma è un agente dell'FBI becon è un agente dell'FBI becon becon calma becon becon oh mamma ragazzi qua becon oh becon si vuole sabotare si vuole sabotare becon ragazzi becon freno ma cosa sta facendo ma che ne so becon piano piano che finiamo il risalto no becon dai va bene ma no noi l'abbiamo salvato e lui invece no ci penso io adesso ci penso io allora attenzione io vorrei una zattera proviamo a prendere la zattera la zattera? ma sei passa la zattera? te la prendo io vai prendimi la zattera eh te l'ho detto che c'era vai andiamo ma no no dobbiamo guidare eh fai fammi guidare ok vai se con la zattera si va più veloce ragazzi se ma dobbiamo ricominciare da qua guarda becon che sta affogando ma becon non ce la può fare becon non ce la può fare becon allora ha dei problemi a girare ma come? mi manca tu mi sa che è una barca da due eh ma è difficile perché questa bisognerebbe guidarla in due no becon vuole risalire sono da sola e non lo voglio becon becon è dietro di terra mi guarda vuole salire becon salvalo no 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 voglio salvare becon attenzione non riesco a girarmi ok è un disastro no ho trovato il modo sto riuscendo a girarmi è troppo ingombrante sta barca eh no forse si serviva l'altra in effetti però questa non si riesce a passare bisogna abbandonare la nave no 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 non abbandonare abbandonare eh? non abbandoniamo la nave perché ce la posso fare ragazzi guardate oh no forse forse non è stato il modo migliore ok no becon prendiamo quella di becon ma vai rubaglia la becon sto andando indietro non vedi cosa sai dietro non sto vedendo niente io passerei il mouse a molle ok va bene mamma mia ragazzi ci ho provato con questa barca non si riesce a dire no è troppo ingombrante ma non puoi andare a piedi ok posso nuotare ma cosa sta succedendo? non lo so perché sta andando a piedi? andiamo con lo no aiuto hai fatto la fine di becon qualcuno mi aiuti no no e adesso? perché questo è ghiaccio voglio aspettare quei due ma non si mettono in moto ecco guarda quanti sono sono due io andrei con quelli ok va bene aspettiamo sono in tre sono sono in tre ma allora non ci stiamo aiuto aiuto facciamo finta ad affogare aiuto qualcuno mi aiuti secondo me non qualcuno mi aiuti sì siamo dentro ok perfetto ok vai vai ciao amici ci siamo in quattro non so se sono bravi no no amici non sono molto bravi i nostri amici ecco i nostri amici ci hanno fatto no vai sul kayak unico basta infatti andiamo sul kayak uno salirà con noi e abbiamo un kayak che è abbastanza mobile è stato un disastro fidarsi degli altri ma cosa stai facendo? non lo so non lo so ma ci siamo incastrati ci siamo già incastrati ma dai ma ragazzi allora questo gioco è difficilissimo non riusciamo ad andare da nessuna parte allora scommetti che adesso ce la faccio ok vediamo guarda eh ma potevamo chiedere un passaggio sulla pinna dello squad eh mi sa che non è molto amichevole oh mamma attenzione vai con calma attenzione dobbiamo arrivare almeno al prossimo ceppone ciao ragazzi voi restate lì no 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 ci siamo bloccati sulla boa nooooo Houston abbiamo un problema one eternity later qua ci aveva fatto cascare e noi adesso invece ci siamo il checkpoint è l'arebi dov'è? è la giù lo vedi? ok ci siamo ragazzi ci siamo ce la possiamo fare qui con Beckon era finita male aaaaa vai sempre dritto sempre dritto vediamo sempre dritto piano 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 frena frena mamma mia che pilota ci siamo ma che cosa sono queste rocce così dal mare sono dei sassi ok dei sassi vai 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 checkpoint attenzione oh ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta oh stiamo allì wow ragazzi no 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 ok ci siamo no ma che cosa? che cosa sta succedendo? va bene sta succedendo di tutto comunque sia siamo stati super bravi se avete letto un altro episodio fatecelo sapere perché da noi oggi è tutto e ci vediamo presto in un nuovo fantastico video ciao ciao